Sto cambiando il pallone con una pallina del tennis. Attacca la consagrazione! E due punti! 2-0 più di Roseldele E' perchè prima c'era un 2-0 Senza la cazzetta Ecco C'è la macchinetta lì E' preso attacco lo Senza Retrazione Iscrivena ha preso rimbalzo Roseldele con retrazione Intensivo di passaggio a Pivot Ok! E' lui il fai farò Ma non scopre Iscrivena non riesce a bloccare Il 5 e il 3 E' il 5 E' il 5 Primo piano E' il 5 E' il 5 E' il 5 E' il 5 Riccardo C E' il 5 E' il 5 E' il 5 Botevani Frivenani 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 Giubbata la palla da Roseldele Obiettivo di Friven Buon passaggio Frivenani 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 Esci qui, vai! Perspettivo di telecazione realizzato! Adesso Sara avrà ancora di funzione due piri, se realizza il primo sono tre punti e il secondo se banchi. Grazie! 25 a 5 hanno effettuato quarto tiro. Non è possibile. No, 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 no. Vede, vede, vede! 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 Vede!